Tanti a Cetraro i partiti politici che hanno sostenuto alcune delle coalizioni impegnate nel voto di fine maggio, numerosi anche i big scesi a dare una mano ad Angelo Aida ed Ermanno Cennamo, due dei quattro candidati a sindaco, popolazione che ha votato anche per Cetraro anch'io e per Uniti per Cetraro. Dopo la vittoria e dopo i festeggiamenti si parte con l'analisi del voto e da questa analisi escludiamo l'ex governatore di Cetraro e oggi consigliere regionale PD Giuseppe Aieta. Tempo fa disse farò l'osservatore, con il PD in campo e legato al progetto di Cennamo, ha dunque mantenuto un profilo istituzionale. La sua uscita di scena ha provocato una vera e propria implosione del vecchio modello governativo. Nessun candidato di superamento, nessun accordo, in poche parole una maggioranza spaccata. Questo ha significato carte rimescolate tra i reduci della vecchia amministrazione e le espressioni dell'opposizione. Il partito di Renzi e dello stesso Aieta al PD, come detto, ha dato forza ad Alleanza Popolare di Cennamo, il sindaco facente funzioni degli ultimi mesi, intesa rafforzata anche dal nuovo centrodestra e da altri candidati con elettorato potremmo dire distante dalla visione del modello Aieta. Nuovo patto per la città è invece la lista vincente, che ha eletto sindaco Aita, ex assessore comunale di Aieta. E qui troviamo il centro-sinistra con il PSI, l'UDC, sinistra ad Emma e anche l'IDM di Tommaso Cesario, ex consigliere d'opposizione nella recente consigliatura, Cesario che ha raccolto ben 575 preferenze, tante. Un buon successo personale in Alleanza per Carmine Quercia, 460 voti, espressione del PD e della vecchia maggioranza. Insomma ecco perché Aieta ha scelto di fare l'osservatore, tanti amici da un lato e dall'altro, ma anche tanti storici avversari. Ma forse dall'Alleanza Popolare qualcuno non avrà apprezzato questa sua posizione. È semplicemente una nostra supposizione, lo scopriremo certamente nel prossimo futuro. Intanto arrivano le prime dichiarazioni degli sconfitti. Non manca la forza, si legge dal profilo Facebook di Ermanno Cennamo, e la convinzione di andare avanti perché la città ha mostrato una forte volontà di cambiamento. Poche centinaia di persone non hanno guardato al futuro di questa città, anzi si possono contare davvero sul palmo di una mano. La politica ha i suoi tempi e chi sbaglia in politica paga sempre, prima o poi, e noi aggiungiamo a buon intenditor poche parole.